Torna il classico appuntamento con la Martani Superbike il 3 luglio a Massa Martana in provincia di Perugia. Due i percorsi entrambi tracciati nello splendido comprensorio dei Monti Martani, il Gran Fondo di 52 km e 1700 metri di dislivello ed il Classic di 30 km e 800 metri di dislivello. Sono state apportate alcune variazioni al tracciato, specie nella parte iniziale per evitare rallentamenti ai biker, ma la grande novità è però nella zona del Gran Premio della Montagna. Le tre creste vi porteranno a scollinare sul punto più alto della Martani Superbike. Sono tre strappi con tre rilanci molto brevi, ma che potranno fare la differenza. Se non avete particolari velleità di classifica, il nostro consiglio è di fermarvi un momento e ammirare il panorama ne vale veramente la pena. Martani Superbike, domenica 3 luglio, Massa Martana, Perugia.